Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo tornando a parlare della tragedia di indicatore perché purtroppo non ce l'ha fatta anche la moglie del 56enne già deceduto ieri Giovanna Gianna Mori è deceduta nelle scorse ore, resta grave il figlio di 25 anni Non ce l'ha fatta Gianna, la donna di 50 anni vittima del gravissimo incidente di martedì pomeriggio alle porte di Arezzo è morta nella notte all'ospedale di Chiareggi dove era arrivata in condizioni disperate con l'elisoccorso Pegaso Si aggrava così in maniera drammatica il bilancio dello schianto che ha spezzato una famiglia e lasciato senza genitori un giovane di 25 anni ancora ricoverato in gravi condizioni alle scotte di Siena Il padre, Francesco Diana, era morto poco dopo l'arrivo in ospedale a seguito dell'incidente lungo la strada provinciale 21 nel tratto da Chiania di indicatore all'altezza dell'interporto Uno scontro frontale tra una Porsche e una Skoda, un impatto violentissimo la Skoda si era rovesciata in un fosso al lato della strada mentre la Porsche aveva finito la sua corsa decine di metri più avanti alla guida un uomo rimasto sotto shock ma che non avrebbe riportato lesioni Ad eseguire i rilievi era stata la polizia municipale che adesso dovrà ricostruire l'esatta dinamica dello schianto La nostra comunità si stringe attorno ai parenti e agli amici della famiglia Diana ha scritto in un post Sergio Chienni, il sindaco di Terra Nuova Bracciolini dove la famiglia abitava Gianna e Francesco erano persone buone, amate e genitori premurosissimi oltre ad essere parte della crisalide preghiamo e speriamo per il figlio per chi possa essere al più presto fuori pericolo Ancora furti in abitazione l'ultimo lunedì sera nella zona di Campolucci alle porte di Arezzo, una frazione appunto della città che già in passato aveva vissuto l'incubo dei furti In questo caso sono intervenute le squadre della volante della questura di Arezzo guidate dal dirigente Torina Pilar e sono intervenuti per un furto chiamati proprio dai residenti che avevano notato alcuni movimenti attorno alla loro abitazione una volta giunti sul posto gli agenti si sono accorti che i malviventi si erano appunto introdotti all'interno dell'abitazione forzando la finestra di un bagno poi però erano riusciti appunto a guadagnare la fuga adesso invece parliamo di una operazione della Guardia di Finanza vendono cosmetici tossici e potenzialmente cancerogeni un maxi sequestro appunto della Guardia di Finanza partito da un negozio di Montevarchi Oltre 4.500 i cosmetici sequestrati perché ritenuti altamente pericolosi per la salute così si è conclusa una maxi operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Arezzo che ha raggiunto anche l'Emilia Romagna e il Lazio L'indagine era infatti partita dalla Toscana quando in un negozio del centro storico di Montevarchi le fiamme gialle avevano scoperto cosmetici pericolosi contenenti idrichinone sostanza chimica vietata in tutta l'Unione Europea da lì i finanzieri sono riusciti a risalire all'intera filiera commerciale dei prodotti arrivando fuori dai confini regionali in Lazio e in Emilia Romagna le perquisizioni effettuate dai militari in tre capannoni tra Roma e Reggio Emilia hanno così portato al sequestro di 4.630 cosmetici definiti come altamente dannosi per la salute le vendite venivano effettuate anche online attraverso negozi virtuali a esito dell'indagine oltre al sequestro è scattata anche la denuncia nei confronti dell'amministratore di una società per la violazione della specifica normativa in materia di sicurezza prodotti hanno preso il via i lavori al capannone di via Poggilupi confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al comune di Terranova Bracciolini gli interventi prevedono una spesa complessiva di un quadro economico pari a 450 mila euro internamente finanziati con risorse della regione toscana a fronte di un finanziamento totale di 710 mila euro che include anche le villette sottratte appunto anche queste alla criminalità organizzata si tratta di un progetto ha detto il sindaco Sergio Chienni che mira a creare uno spazio polivalente per la rimessa dei mezzi comunali della protezione civile e per il deposito di strumentazione comunale per accogliere l'archivio degli uffici tecnici del comune Un focus di Intesa San Paolo sulla distretto orafo aretino un'eccellenza italiana è stato definito intanto proprio da Confindustria arrivano i dati del settore che tiene nonostante il prezzo dell'oro sia in continua oscillazione Andamento ed evoluzione del distretto orafo di Arezzo questo è l'oggetto di un incontro che si è tenuto presso la sede degli industriali organizzato insieme ad Intesa San Paolo le oscillazioni del prezzo dell'oro e la situazione geopolitica sono indubbiamente i maggiori elementi di preoccupazione del settore che comunque tiene Il settore è in grande tenuta per fortuna nonostante le oscillazioni del prezzo dell'oro che stiamo subendo in questo momento oscillazioni di più di un euro, un euro e cinquanta da un giorno all'altro per cui un cliente che deve comprare diversi quantitativi di oreficeria chiaramente si trova in difficoltà a dover fissare il prezzo del metallo certamente sono oscillazioni non positive per l'economia del distretto però il distretto sta tenendo e diciamo che sta continuando il trend di positività che era iniziato ormai prima del covid e continuato nel 2021 e quindi ecco le aziende sono tranquille con ordinativi e con insomma un'economia ancora molto fiorente Il distretto oro a Foaretino conta 1100 aziende e circa 8000 addetti E' un'eccellenza a livello nazionale ed è molto importante a livello territoriale quindi per la regione toscana E' un distretto molto particolare che anche noi abbiamo sempre e costante necessità di conoscere sempre di più e quindi queste occasioni di interazione con il territorio per noi sono fondamentali da un lato per ascoltare e quindi dalla parola degli imprenditori grazie anche alla collaborazione con Confindustria riuscire in qualche modo a conoscere le sfumature e le preoccupazioni i bisogni che le aziende hanno oggi e cercare dall'altra parte di poter fornire e illustrare quella che è l'offerta che noi possiamo dare a queste imprese Durante l'incontro c'è stato un approfondimento sui prezzi delle materie prime in riferimento anche al prezzo dell'oro e a seguire gli strumenti finanziari di copertura del rischio e prodotti dedicati alle aziende orafe Le esigenze dell'azienda sono quelle ovviamente di ritornare come prima, già ci siamo però di avere anche la possibilità di investire, di avere il credito per investimento perché noi imprenditori crediamo nell'investimento, crediamo nel futuro delle nostre aziende e del mercato Per sei mesi all'anno le imprese italiane e ovviamente anche aretine lavorano per lo Stato gli introiti dei primi sei mesi dell'anno sono appunto destinati completamente alle tasse il socio ostilente delle aziende aretine come quelle italiane più in generale è la pubblica amministrazione a livello locale il 50,2% del reddito di impresa viene assorbito dalla tassazione a rivelarlo sono le cifre del rapporto 2023 dell'osservatorio permanente di CNA che all'indomani del periodo pandemico ha condotto una curata ricerca sulla tassazione delle piccole e medie imprese comparando 114 capoluoghi italiani a Rezzo nella classifica nazionale si colloca comunque nella top 10 dai più virtuosi come dicevamo poco più del 50% ma sempre insomma una cifra davvero molto molto importante che come dicevamo se ne va in tasse Ancora economia con il prossimo servizio con i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Arezzo I dati Prometeia sono dati previsionali che registrano un sostanziale rallentamento del nostro sistema economico dovuto a una dinamica inflattiva che continua e ovviamente è in qualche modo anche legata all'aumento dei tassi di interesse che tende proprio a combattere questa inflazione che fa aumentare il costo delle materie per la produzione Il 2023 sarà un anno di rallentamento mondiale con evidenti ricadute anche a livello provinciale nonostante alcuni segnali di tenuta dell'attività economica che contribuiscono a delineare un quadro meno nero di quanto stimato lo scorso anno Sono i dati Prometeia elaborati dalla Camera di Commercio sull'andamento dell'economia aretina In provincia di Arezzo, sottolinea il presidente Massimo Guasconi, il valore aggiunto 2022 si dovrebbe attestare a fine anno a circa 9,48 miliardi di euro in crescita del 4,7 Nel 2023 evidente la ricaduta con un valore aggiunto di 9,96 miliardi e una crescita dell'1,4% Non sostanzialmente ma comunque significativamente rallenta anche l'occupazione e le unità di Leula la cosiddetta unità che determinano l'attività dell'occupazione Analizzando i singoli settori l'agricoltura dopo aver subito una perdita nel 2021 dovrebbe recuperare abbondantemente negli anni successivi Al contrario il manifatturiero dopo un brillante 2021 nei successivi anni potrebbe subire un decisivo rallentamento Le costruzioni grazie alla potente spinta degli incentivi fiscali crescono nel 2021 e nel 2022 ma nel 2023 invece si registra un sensibile rallentamento Per quello che riguarda le costruzioni sarà un anno ancora buono però ecco le prospettive non sono delle migliori perché nel 2024 si prevede anche qui un forte rallentamento sicuramente influenzato dalla dinamica delle materie prime e dei prezzi dal punto di vista dell'occupazione ripeto ci dovrebbero essere una sostanziale ripresa e consolidamento anche se collegata a una diminuzione delle ULA quindi ad un'attività che sarà minore quindi una percentuale inferiore degli occupati che saranno impegnati in attività lavorative I servizi dopo aver chiuso il 2021 con un più virgola 3.8% accelerano ulteriormente nel 2022 per poi manifestare segni di rallentamento nel 2023 Per quanto concerne poi il reddito disponibile delle famiglie retine a valori correnti le stime mostrano una crescita del 6.6% nel 2022 per poi assestarsi nel 2023 un andamento che però non tiene conto della dinamica inflattiva Si parla di un più 3,5% per quanto riguarda il reddito e un più 5% dei consumi ma l'anno precedente era stato più 12% dei consumi quindi è più che dimezzato la previsione diciamo per quanto riguarda l'andamento dei consumi Giornalismo e democrazia questo l'argomento dell'incontro di educazione civica voluto dall'associazione Intratevere Tarno e tenuto da vari personaggi del mondo della politica, del giornalismo e comunque della società civile nelle scuole superiori della provincia di Arezzo il relatore di questo incontro era il collega Ivo Brocchi Di nuovo un'altra lezione e relazione di educazione civica in una scuola di San Giovanni Valdarno tenuta da un volto noto a tutti ad Arezzo e zone limitrofe che è l'amico Ivo Brocchi e l'associazione Intratevere Arno di cui sono il presidente che organizza una lezione di educazione civica in collaborazione ovviamente col provveditorato agli studi con il dirigente scolastico provinciale in tutte le scuole superiori della provincia di Arezzo e questo ancora una volta ci ha dato la possibilità e la soddisfazione di far parlare un amico e un grande giornalista Ivo Brocchi Informazione e democrazia è un tema sempre attuale il piacere di poterne parlare con così tanti studenti tutti i ragazzi di 17-18 anni quindi cittadini ormai formati per spiegare quali sono le regole del gioco le regole del gioco che sono molto delicate abbiamo in un paese come il nostro il potere legislativo quello esecutivo e il potere giudiziario ebbene c'è il cosiddetto quarto potere che è l'informazione se l'informazione funziona, è libera riesce a trovare e verificare le notizie le può offrire a cittadini perché loro stessi diventino consapevoli della realtà dei fatti un paese funziona se non è così non funziona un esempio per tutti nelle dittature l'informazione non è libera in Italia l'informazione è libera con tutti i suoi difetti e tutte le correzioni di cui avrebbe bisogno però per ora il tempo è ancora buono c'è nuvolo nel cielo ma il tempo è ancora buono nel senso che l'informazione c'è possono parlare tutti non è entrato nessun diritto di censura niente quindi non stiamo messi proprio male 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 il piacere è sentire giovani di 17-18 anni che sono interessato a questo argomento perché è chiaro se non ti informi poi gestisci male anche il tuo futuro e allora non perdete all'interno della nostra programmazione appunto tutta la conferenza di Ivo Brocchi che come dicevamo è stata sul giornalismo e democrazia e ha appunto parlato ai ragazzi siamo adesso invece alla pagina della cultura è al MUMEC al Museo dei Mezzi di Comunicazione l'antenato del Jukebox è stato all'epoca grande stupore perché la musica era stata fino a quel momento soltanto sentita e ascoltata nei teatri con questo sistema di meccanizzazione praticamente il teatro si spostava nelle case si spostava negli ambienti pubblici Arriva dal Belgio datata 1880 è senza dubbio una delle macchine musicali automatiche più innovative dell'epoca adesso è in esposizione al MUMEC il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo con questo sistema di meccanizzazione della musica si riesce a riprodurre con una eleganza e con una bontà tutte le note musicali che erano state scritte dai più grandi autori tipo Strauss concepito nella meccanica di questa macchina la macchina musicale progettata in un'epoca senza corrente elettrica si avvia inserendo una piccola moneta insomma uno dei primi prototipi di Jubox questo qui era con 5 centesimi belgi ma poteva funzionare con un centesimo del dollaro oppure della sterlina in Inghilterra e che veniva adattato con il peso e questo poteva suonare per un disco qui è una rarissima perché di solito le macchine erano normalmente messe nelle case e che quindi non c'era il bisogno quindi del pagamento diciamo per l'ascolto e questo qui invece è stato utilizzato è destinato per un luogo pubblico per cui l'antelite del Jubox è questo Musica e solidarietà per una cena spettacolo in favore del Calcit Una cena spettacolo a Subbiano e anche in questo caso si pensa alla musica, al buon mangiare ma anche alla solidarietà Sì, la Città della Musica è la nostra associazione che intorno a noi sono 14 gruppi che suonano orchestre e orchestrali c'è una spettacolo questa è la terza che facciamo presso la sede del prologo di Subbiano il 12 maggio alle 20 e le band che suoneranno sono i Tilt l'Acustica, l'ID di Marzo, la Quarta Mano e la Air Cover Band è un momento di solidarietà anche nei confronti di Calcit perché il ricavato comunque sarà di Calcit e l'invito è di essere presenti perché la cucina è di buon livello si balla, ci sarà tanta musica la solidarietà quindi insomma è sicuramente una serata importante C'è una spettacolo saranno presenti delle band a retine? Sì, naturalmente le band a retine a parte questa volta abbiamo una band nuova sono gli Acustica lo voglio precisare che lì nell'Acustica ci sarà un personaggio a livello insomma nazionale perché è il bassista dei Panda un'orchestra che andava negli anni Ottanta alla grande comunque ecco l'appello che voglio fare di intervenire numerosi perché più incassiamo e più diamo al calcine quello è importante per noi Come ci si può prenotare? Ci si può prenotare come è scritto nel manifesto telefonandomi e mi raccomando perché più siamo più diamo il contributo al calcine ma anche la soddisfazione dei nostri ragazzi fra virgolette che si esibiscono e più gente c'è e più è soddisfacente Sono tantissime ormai le iniziative che pensano al calcine come verranno utilizzati questi fondi? Dunque intanto grazie alla città della musica perché ormai da tanto tempo diciamo ci sono vicini e questi fondi saranno destinati ormai come da tempo al servizio di cure domiciliari oncologiche il servizio scudo che è veramente un servizio apprezzato e totalmente gratuito per chi lo riceve Addio a Pasquale Del Tongo oggi i funerali nella chiesa di Spoiano nel comune di Civitella in Valdichiana Del Tongo aveva 83 anni storico e imprenditore a rettino il cui nome per decenni è stato legato all'omonima azienda di Civitella in Valdichiana imprenditore in nome di spicco dello sport per anni ha sponsorizzato i grandi nomi del ciclismo come Giuseppe Saronni presente ai funerali e Franco Chioccioli Ed infine parliamo di karting in piazza con questo servizio Alla guida di kart elettrici per avvicinare i più piccoli ai temi dell'educazione e alla sicurezza stradale in modo originale, interattivo e soprattutto divertente è così tornata ad Arezzo l'iniziativa promossa da ACI karting in piazza dedicate ai bambini dai 6 ai 10 anni a far da teatro alla manifestazione il piazzale dello stadio di Arezzo trasformato per l'occasione in un laboratorio di formazione e educazione al rispetto delle regole quindi questo è un modo per cercare di fargli comprendere fisicamente come si affronta una curva come si preme un pedale e che cosa succede quando si preme il pedale quando si frena quant'altro è un qualcosa di concreto perché noi crediamo che la sicurezza stradale non si possa imporre ma si debba condividere parlandone con questi ragazzi in modo semplice e facendogli provare per la prima volta un kart crediamo di aver stimolato l'attenzione su questo fatto che la cultura della sicurezza stradale si impara anche a scuola soprattutto si impara quando non si deve prendere la patente i piccoli allievi delle scuole primarie e retine sono così pronti a diventare testimoni e ambasciatori delle dieci regole d'oro della sicurezza stradale è stata importante anche la presenza della polizia municipale con il comandante Aldo Poponcini che scherzando con i ragazzi ha ricordato alcune regole della strada ha chiesto un favore ai bambini di ricordare ai genitori quando sono in macchina insieme di evitare l'uso del cellulare di tenere la cintura di avere una velocità moderata quindi tutti insieme cerchiamo di fare la sicurezza stradale perché la strada non è un luogo pericoloso lo diventa con i comportamenti sbagliati delle persone è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese e attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti